Sì Davide, ben ritrovati. Ultimi 60 minuti frenetici, ovviamente è ben più di una sensazione. Per Borini e Diamanti il rischio buste sembra difficilmente scongiurabile, ma ci sono tante altre trattative su tanti altri giocatori che o andranno alle buste o si risolveranno invece le loro situazioni in extremis. Ad esempio uno che andrà alle buste è molto probabilmente Mirko Antenucci tra Catania e Torino. Il Catania dovrà presentare la busta anche per l'Anzafame che andrà alle buste con il Palermo. Se possiamo andare con la telecamera dietro di me, vedete in fondo probabilmente, lo vedete già adesso, proviamo a zoomarci. Intanto questa è la grafica delle comproprietà, ma se torniamo qui live dall'Ata vi faccio vedere che il Catania con l'amministratore delegato Gasparin, con il direttore generale Bonanno sta proprio preparando, eccoli qua, sta preparando le buste, sta studiando la cifra da presentare all'interno della busta per Antenucci e magari anche per l'Anzafame. Dunque sono momenti davvero delicati, ogni squadra sta facendo le sue valutazioni. Ad esempio il Cagliari invece l'ha già fatta la sua valutazione per Lazzari, anche lui andrà alle buste. Tra Cagliari e Fiorentina non si è trovato l'accordo, il Cagliari ha già presentato la busta, adesso bisognerà aspettare che la presenti ovviamente anche la società Viola. Invece il Cagliari continua a parlare con la Juventus anche in questo momento per risolvere la situazione di Ekdal. Non c'è la volontà di andare alle buste, si sta lavorando perché il giocatore possa essere riscattato interamente dal Cagliari. Vedremo se in questi 50 minuti che mancano, ecco in proposito proprio Fabio Paratici qui all'uscita dall'Ata Hotel, questo ovviamente è Beppe Marotta, insomma stanno lavorando con il Cagliari per trovare una soluzione. Altre comproprietà risolte proprio alla fine, e Bagua è tutto del Varese, era in comproprietà con il Torino. Nell'operazione al Torino va un giovane del 97 Bonfante, attaccante della nazionale Under 16, di cui si parla molto molto bene, mentre potrebbe andare al Varese dei Feudis nell'operazione. Lazarevic è stato riscattato dal Genova, mentre Jelenic va al Padova. Questi due giocatori erano a metà tra le due società, dunque uno resta al Padova, uno va al Genova. Ma per il resto invece dei nomi con cui abbiamo aperto, cioè Diamanti e Borini, Gianluca Di Marzo che è qui con tutta la squadra mercato mi dice che il fratello di Giovinco è tutto della Carrarese, quindi i due Giovinco che erano entrambi in comproprietà hanno trovato tutte e due una soluzione. Il più grande è andato alla Juventus, l'altro è andato alla Carrarese, dunque non giocheranno insieme. Tornando su Borini e Diamanti sembra davvero difficile, praticamente impossibile che in 50 minuti si riesca a trovare una soluzione. A questo punto già parte la caccia per capire quanto le varie società interessate, cioè Parma e Roma per Borini, Brescia e Bologna per Diamanti, metteranno nelle buste. Abbiamo anche raccontato che l'Udinese è molto interessata alla situazione di Diamanti, ne ha parlato in particolare con il Brescia. Poi le due comproprietà risolte lontano da qui, come vi ha raccontato Matteo Barzaghi, cioè quelle di Longo e Cucca tra Inter e Genoa, formalità sbrigate le ultime nel pomeriggio di oggi, con Cucca che torna tutto del Genoa a Longo tutto dell'Inter, nell'occasione si è parlato anche di Destro, lo avrete capito e lo ha fatto capire soprattutto con le sue parole il Presidente Preziosi dicendo che Destro resterà al Siena. Ricordiamo che chiunque voglia Destro adesso dovrà trovare l'accordo sia con il Genoa sia con il Siena. A proposito di Siena, sempre a caccia dell'allenatore, cresce un po' l'ottimismo per riuscire a convincere Gigi Del Neri. Per il momento è tutto, ma manca davvero poco, 50 minuti alla scadenza del termine per risolvere le comproprietà. Dunque torneremo spessissimo qui dall'Ata e vi racconteremo tutto minuto per minuto. A voi. Grazie. 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 Grazie.